E chi se lo aspettava che le shuscelle, le pittule all'acqua di Patù, diventassero uno dei pomi della discordia nella guerra nazionale che la Confcommercio ha dichiarato alle sagre che scipperebbero orde di clienti e ristoratori? Eppure così è. È oggetto di denuncia all'antitrasta e di una lettera alla Commissione europea a cui si chiede l'apertura di una procedura di infrazione per concorrenza sleale aiuto di Stato. Così la temibile shuscella, assieme alle cucchialelle di Rocca Bascerana, è stata inserita nella lista nera della Confederazione dei Commercianti che è stilato un vero e proprio dossier di denuncia di un business da capogiro e spesso fuori legge. 30.000 sagre in Italia, di cui 26.000 concentrate tra giugno e settembre, un giro d'affari da 700 milioni di euro in una stagione, un mucchio selvaggio, come lo definisce il quotidiano nazionale La Repubblica, e piatti tipici diventati una illusione. Non sappiamo nulla di questa denuncia, tra l'altro noi non riceviamo neppure contributi da parte di enti locali se non il semplice patrocinio replica dal profondo sud del presidente della Proloco di Patù, Michele Milo. Il 16 agosto il piatto è stato servito, così anche a Torre Santa Susanna nel Brindisino, per il Cocommerfest, altra sagra finita nel mirino tra le centinaia organizzate solo nei mesi estivi da un capo all'altro del Salento. La Conf Commercio Nazionale ci va giù pesante. Questi eventi non hanno più niente di tipico e locale, di tradizionale e culturale, sono diventate un modo per togliere clienti e incassi alla ristorazione quotidiana, approfittando di un regime di vantaggio. Tendoni montati in mattinata, controlli igienici precari, nessuna tassazione. Si chiede dunque ai sindaci di mettere a regola e di limitare questi eventi culinari, almeno nel periodo clou delle presenze turistiche, di salvare soltanto le sagre davvero utili e che fungano da promozione di singoli prodotti tipici. La posizione di Conf Commercio è nota. Già a giugno ha proposto di tassare queste manifestazioni assieme a feste di partiti politici, circoli privati, circoli sportivi, un modo per reperire le risorse necessarie ed evitare l'aumento dell'IVA. Le esenzioni fiscali di cui beneficiano questi eventi, infatti, sono già state individuate dalla Commissione europea come aiuto di Stato. Nessuno è contro nessuno, spiega Roberta Mazzotta nell'aggiunta di Conf Commercio Lecce. Tuttavia, l'attività delle proloque e delle altre associazioni non si può sostituire ai ristoratori. Sarebbe utile un tavolo di confronto tra presidente provinciale dell'UMPI e sindacati, soprattutto nei paesi piccoli della provincia di Lecce. Sarebbe utile valorizzare i prodotti attraverso gli esercenti locali. Si deve rompere il conflitto di interesse e si deve andare verso la collaborazione. Sono maturi i tempi per farlo.